Prossimo punto, nomina componente di commissione comunale per la formazione dell'albo dei giudici popolari Qui va a guidare un consigliere, giusto? Con il scrutinio segreto, segretario Bisogna seguire le schede, non dico, purtroppo, bisogna rifare le unedità, forza Bisogna leggerli due consiglieri Bisogna leggerli due consiglieri Faccio la richiesta se ci può essere anche espressione del gruppo di minoranza Faccio questa la richiesta C'è, tu posso andare a votare se non mi lo poteranno Per esempio, spiego meglio Allora, cinque anni fa ci è stato chiesto di tenere conto anche della minoranza Abbiamo accontato uno della minoranza e uno della maggioranza Mi sa che a parte le risposte da te Io non c'è, ci posso fare Quindi chiedevamo se in questa condizione si potesse fare un consigliere della minoranza Allora, disegnate consigliere della minoranza O disegniamo consigliere della minoranza Noi lo disegniamo tanto e lo diamo dentro No, tanto e lo diamo dentro Grazie. Grazie. Grazie.